A Bari il sindaco leccese ha convocato gli organi di informazione per varare la sua giunta di scopo per illustrare come si svilupperà l'attività amministrativa. Entro fine mese ci sarà la possibilità di approvare l'assestamento di bilancio con cui vetteremo delle variazioni sui capitoli di entrata e di uscita. Ho chiesto agli uffici di inserire una somma di 3 milioni e 600 mila euro da destinare al contributo allogiativo una misura che ritengo necessaria ed urgente, ha detto il primo cittadino varese che era stata cancellata dal Governo nazionale dopo 23 anni dalla sua istituzione. Il Comune chiederà un'integrazione alla Regione Puglia che come è accaduto più volte in passato potrà valutare di implementare lo stanziamento comunale in fase di assestamento.